Lo stile cristiano è fatto di amore, perdono, magnanimità e misericordia, non ipocrisia. È il cuore della riflessione di Papa Francesco nell'Omelia del Mattino a Casa Santa Marta, nella quale mette in luce l'importanza della generosità per giungere alla ricompensa vera. Non giudicate, non sarete giudicati. Non condannate, non sarete condannati. È in questo insegnamento del Signore che bisogna trovare il coraggio di accusare se stessi, come fece San Paolo, definendosi bestemmiatore, persecutore e violento. Nell'episodio evangelico della pagliuzza e della trave, afferma il Papa, Gesù ci insegna lo stesso. Questo è il primo passo per una conversione, per incamminarsi sulla strada della magnanimità, per non essere un'anima mischina, piena di piccolezze, piena di chiacchiere. E Gesù usa quella parola che soltanto usa con quelli che hanno doppia faccia, doppia anima. Ippocrita. Ippocrita. L'uomo e la donna che non imparano accusare se stessi diventano ipocriti. Tutti, eh? Tutti. Incominciando dal Papa in giù. Tutti. Se uno di noi non ha la capacità di accusare se stesso e poi dire, se è necessario a chi si deve dire le cose delle altre, non è cristiano. Non entrano in quest'opera tanto bella della riconciliazione, della pacificazione, della tenerezza, della bontà, del perdono, della magnanimità, della misericordia che ci ha portato Gesù Cristo. Grazie. 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 Grazie.